A breve, ognuno di voi scoprirà chi sarà il suo nuovo datore di lavoro, il vostro boss. Avere un capo pure, no? Una cosa assurda. I bossi... Cosa succederà? Che alla fine di ogni settimana lavorativa, i vostri boss vi consegneranno delle buste paga. Questa è una cosa carina, l'unica cosa da riprendere. Se avrete lavorato bene, la busta paga sarà piena e potrete proseguire la vostra avventura in Messico. Se non avrete dimostrato impegno e responsabilità, la busta paga sarà vuota e voi sarete a rischio eliminazione.